IL LIMITE DEI VIDEO 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 visti che grotte grazie un pollo vabbè non so che cazzo fare ragazzi ah vi voglio dire mi ricordo se ve l'ho già detto che questo qua se avete fatto caso è la 1.1 e ora ho trovato anche il lancer della 1.2.5 quindi decidete voi se continuare questa o continuare sempre ma nella 1.2.5 1.2.3 scusate se volete a me non c'è nessuna differenza tu cazzo stiamo andando vabbè non ce l'abbiamo segnali vediamo se troviamo qualcosa di utile un dungeon o qualcosa del genere cazzo un lupo non abbiamo le ossa ok muore allora cazzo dove cazzo vai ehi ora mi denunceranno che ho ammazzato i cani po' difficile o u storo di un villaggio grandi o minecraft bo mobe funfora assumono un giorno ma stardi montagne è una miniera no, è finta ok ok cazzo laghi minecraft porca buttana io faccio cosi pam pam ok 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 mi sono solo oh carbone ah ragazzi vi volevo dire che se siete d'accordi vorrei iniziare un altro let's play ma su un gioco horror famosissimo amnesia ragazzi l'ho scaricato oggi ancora non ci ho giocato quindi voglio fare questo let's play su questo gioco che dicono che fa cagare sotto però il mio il nostro video si vabbè video il gioco horror preferito è slender ragazzi slender non lo batterà nessuno da grande sicuro da grande tra poco mi farò sicuramente un tatuaggio di slender sicuramente un topo wada da fuoco ok la montagna di ali ragazzi tutte le pechere alla luca cazzo no ditemi che cazzo è una croce una croce vuole bah te guarda quanto cazzo di carbone oh oh non ho chiesto tanto un dungeon aaaaa che figura di merda se non mi sbaglio ho visto un limone da queste parti ah si ok esploriamo il dungeon dei lanetti ragazzi ah aiuto 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 ok ragazzi questi ci fanno il culo te guardo quanti e io scendo con l'attacco bomba kamikaze e' mo' lo devo aspettare secondo te secondo te allora parkour cazzo ecco ragazzi i fasi rifare subito a partire a mancraft rieccoci qui ragazzi cazzo 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 fanculo che palle ragazzi cazzo cazzo con le perse giusti cazzo t cazzo 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 che vuoi saluto poi è stato vantato vuoi questo un po' un po' un po' un po' un po' non so che cazzo significa questa cazzo mi piace allora ragazzi ce la fa ah che cazzo è ok fare un po' di tiro con l'arco ragazzi e vaffanculo fermi grande fermi 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 cazzo se ribaggata ce la fa vaffanculo doppio ma cagare va che palle ragazzi io ne vado a riviare l'esperienza di qua e levo anche dei nanetti vaffanculo vado a riprendere l'esperienza vabbè stop il video ragazzi ecco mi è arrivato vediamo il dead point asimiter io ho visto un altro cosa di nanetti medusa un'altra medusa scappiamo un'altra medusa vabbè in questo video ne abbiamo fatto un cazzo pratica creeper uno scorpione no 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 vaffanculo devo correre vaffanculo c'ho aspetta doro non voglio morire non voglio morire non voglio morire non voglio morire ma vaffanculo scappo scappa vaffanculo mangio una mela un lupo minaro è un campero non vuole a me ok lag lag ok vai a piangere dallo squedetto muori tu un amico che un amico non sei livella livella vaffanculo lag lag e mai trotto le balle ma non basta 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 Un doto piccolo. Ah no. Oh ragazzi io direi di andare un'altra volta nei lanetti. E se riprendiamo... Oh c'è. Ah ecco perché. Un'altra volta nei lanetti. Ah è uno zombie che sta prendendo fu... Vaffanculo. Un'altra volta nei lanetti. E se... Riperdiamo... Minecraft è la terza volta che salta ragazzi. È la terza. Vabbè. Con quest'ultimo... Out of memory. Vi lascio. Da camperone 96 è tutto. Bella raga. Un'altra volta nei lanetti. Un'altra volta nei lanetti. Un'altra volta nei lanetti. Un'altra volta nei lanetti.